Il Consiglio Comunale di Foggia riesce a dividersi anche sulle cittadinanze onorarie da concedere alle personalità che si siano distinte nel corso degli anni. Dopo una discussione di due ore ed una interruzione, il Consiglio Comunale ha deciso che Tommaso Moretti, Vincenzo Russo e Giovanni Cipriani saranno cittadini foggiani. Il riconoscimento della Giunta e del Consiglio Comunale interesserà il Russo, originario di Napoli, già procuratore della Repubblica a Foggia dal 2006 al 2013. Ad essere insignito del riconoscimento anche l'ex direttore generale degli ospedali riuniti di Foggia, Tommaso Moretti, che negli 11 anni alla guida del Policlinico ha dato un nuovo impulso alla sanità foggiana e anche all'edilizia ospedaliera. Tra i foggiani d'adozione vi sarà anche il professor Giovanni Cipriani, già preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Foggia e riconosciuto come pioniere dell'Ateneo Dauno. Meriti indiscussi secondo il Consiglio Comunale di Foggia, che pure si è diviso sulle priorità da discutere, con tanto di protesta formale da parte del consigliere comunale Pasquale Cataneo, che ha abbandonato l'aula. C'è un a capo sulla seconda stazione di Foggia che ancora non viene considerato, ha detto il consigliere prima di protestare e lasciare polemicamente la sala consigliare. Solo dopo due ore di dibattito è stato dato l'ok alla cittadinanza onoraria di Russo, Cipriani e Moretti.